I comici di stand-up comedy rispondono alle domande più ricercate sul web. Vai. Dai. Ah, questo è facile. Lo chiedi agli amici perché il cornuto è l'unico che non lo sa. Basta che siete quello che tradisce. Perché scoprirlo? Se l'amante è russa. Nel mio caso credo che l'unico modo sia l'eutanasia. Fai solo stories su Instagram. Frequentando soltanto lottatrici di sumo. Perché ciò che non uccide fortifica. Se non vorremmo vivere tutti in eterno. Uno dei motivi, per esempio, è perché devo rispondere a queste domande del cazzo. Perché altrimenti film i contratti a cazzo. Perché i meme sono divertenti. Perché se il bagno è fuori uso vorrei saperlo. E questo è il mio caso che non avevo mai un po' sheriffiliare. Cazzo.